Qua te la metto su Facebook Le stai facendo un video? Dai zitta Anch'io le pari di video E comincia eh, vuole farti notare Ma basta Via, è sempre lo stesso A meno che tu non metti la massa su un po' d'anni Questo è il meno significativo C'è scritto, sì, mi sembra di sì Questo è il meno significativo Questo è il più significativo Anche perché